Inici di Maria De Filippi è un programma che comunque ti ha segnato anche un pochino nel cuore, no? Moltissimo! Quando mi chiamò Maria c'era già stata la prima edizione. A me spaventava perché comunque voleva dirmi trasferirmi a Roma, invece io stavo a Milano, e fare una cosa che era una macchina grossa e in più lavorare con Maria che per chi insomma lavora in televisione è un po' come, che ne so, come la suora che vuole andare a lavorare col papa. Non so come dire, col prete che vuole andare a lavorare col papa. Io infatti da 5-6 anni da questa parte ho deciso solo di lavorare con Maria.